E' stato presentato questa mattina a Cagliari, nella sala riunioni dell'assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, il programma di contributi che stanzia quasi 30 milioni di euro a favore delle imprese operanti nel settore del commercio. L'obiettivo è aiutare le piccole e medie imprese, incentivare investimenti e tutelare i livelli occupazionali per le imprese del settore commercio che sono state pesantemente colpite dalla crisi determinata dall'emergenza sanitaria. Il programma è stato presentato dall'assessore al turismo Gianni Chessa alla presenza dell'assessore della programmazione Giuseppe Fasolino e delle associazioni di categoria. Le azioni di sostegno decise dall'Aggiunta regionale prevedono un finanziamento del 40% a fondo perduto fino a un massimo di 200 mila euro per le imprese del commercio che vogliono investire nelle proprie attività, maggiore fondo perduto per chi assume. È prevista infatti una premialità di 5 mila euro a fondo perduto per ogni dipendente assunto, fino a un massimo di 15 mila euro.